Ciao, buongiorno, eccoci a un nuovo video. Oggi è sabato, siamo il 17 febbraio 2024 e andiamo ad aggiornare, a mettere in video gli ultimi interventi che ho fatto in ordine alla politica e all'attualità. Vi ricordo sempre che fra le molte informazioni che vi metto in ogni video e quindi anche in questo il primo link che troverete è l'articolo in cui metto tutti questi interventi che si intitola politica attualità e andando a vedere gli interventi potrete così aprire gli eventuali link che ci sono negli interventi stessi, oggi ce ne stanno 4 su 6, 7, una cosa del genere. Allora, andiamo subito a leggere questi ultimi commenti che ancora non sono in video. Partiamo con il più vecchio che è relativo al 9 febbraio scorso e commentavo, mettendoci appunto il link, il video del canale Pabble, un canale che secondo me è uno dei più corretti, diciamo così, dell'area del dissenso, di tutti quei commentatori e influencer, poi di fatto diventano influencer della scena politica e dell'attualità, secondo me è uno dei più corretti. Lei è brava, ha un bel ritmo e comunque spesso dice, spesso le cose vanno dette anche se a volte denuncio comunque il fatto che su alcune questioni bisognerebbe secondo me andare più a fondo. Comunque, più e guardando la cosa un po' da fuori e per vedere un po' la macro situazione dei vari problemi, perché se no, se non capiamo la macro situazione tutti i meccanismi che stanno colando sulle nostre teste e ci limitiamo pur a commentare in maniera relativamente corretta un pezzetto della realtà, ma non traiamo conclusioni e non colleghiamo queste conclusioni con altre e quindi vedendo la cosa un po' più alla lontana, un po' più e in maniera più globale possiamo, ogni volta ci dimentichiamo che la realtà spesso poi ha un altro significato ancora più profondo. Allora, questo comunque video che commentavo il 9 febbraio, dico questo, ottimo video quindi di Pabble che è relativo all'intervista a Putin, lei commenta l'intervista a Putin riguardo a ciò che dovrebbe essere il giornalismo nella sottolineatura delle cose importanti, perché lei sottolinea cose importanti e quindi non mette in evidenza la carenza analitica, espositiva e argomentativa del mainstream ovviamente, anche se sono convinto come queste guerre a bassa intensità, tra virgolette, perché i morti ci sono, comunque non è una guerra mondiale, o per procura, facciano parte, perché ovviamente Putin parla anche e soprattutto della guerra ucraina e quindi di tutta la situazione fra Russia e Stati Uniti e NATO e quindi tutta la situazione globale, in particolar modo in relazione a questa guerra. Quindi sono convinto come queste guerre a bassa intensità, ripeto, tra virgolette, o per procura, facciano parte di tutta una realtà deviante da ciò che la tecnocrazia globale sta preparando, visto che la tecnologia oggi permette il controllo globale, perché è questa la questione, questa tecnodistopia la faranno sia se ci accorderemo con la Russia barra BRICS, sia se continueranno con questa tiritera delle presunte divisioni ideologiche, eccetera, eccetera. Andiamo al 10 febbraio perché avevo appena finito di leggere, di studiare un libro bellissimo che, vediamo se riesco a farvelo vedere, un attimo, devo spoggiare il telefono, così io lo faccio vedere, la copertina, se si apre, perché non si apre, non ho cliccato bene, vediamo un po', ecco adesso dovrei essere riuscito ad aprirlo, che si intitola Verso un mondo nuovo, ed è questo qui, vediamo se è della Mary Ann Seldon, eccolo qui, come vedete, Mary Ann Seldon, scusate, Verso un mondo nuovo, Eleanor Roosevelt è la dichiarazione universale dei diritti umani, e beh, è tutto, è un libro che è stato pubblicato da qualche anno, e è tutta la storia, di tutti gli anni, quello che è successo nella commissione, nella terza commissione dell'ONU, quella sui diritti umani, bellissimo, e io dico questo, ho da poco finito di leggere questo libro, che ritengo imperdibile per quanti vogliono interessarsi e comprendere i diritti umani, un volume che mi serve anche per il prossimo libro che sto scrivendo, basato sulla serie di 32 articoli messi anche in 33 podcast sui diritti umani, che terminai nel 2019, ovviamente nelle informazioni, nel video c'è il link per la sezione del blog in cui ci sono questi articoli, li sto raccogliendo appunto in un libro, in modo che possano diventare anche un testo per una serie di conferenze richieste da amici. Nel libro della Glendon, l'opera della Roosevelt di Chang, Malik, Cassin, sono tutti personaggi autorevolissimi che hanno contribuito alla stessura dei 30 diritti dell'uomo e altri, è ben sviscerata, i diritti umani sono stati formalizzati per miracolo, sfruttando quei pochi anni post seconda guerra mondiale che hanno creato per così dire un varco umanistico e civile nelle divisioni fra blocchi, un vero miracolo appunto. Vista l'antipolitica imperante e la rassegnazione verso un potere che appare sempre più lontano dalla società civile e dalla democrazia, oggi ci vorrebbe un miracolo ancora più grande e i diritti umani potrebbero essere ancora la chiave di volta per una nuova, dimenticata consapevolezza civile. Sapete che questo è uno dei miei cavalli di battaglia, se non il cavallo di battaglia. Andiamo sempre il 10 febbraio e qui commentavo ancora l'intervista a Putin pubblicando l'articolo dell'indipendente dove c'è tutta la trascrizione integrale dell'intervista che me la sono letta. Quindi nella versione di Putin possiamo oggettivamente vedere, indipendentemente quello che possiamo pensare, sapete che io l'ho sempre criticato per questa invasione, ho sempre detto che poteva essere il Kennedy del terzo millennio invece poteva fare bene altre cose invece che invadere, ma sapete anche che penso che tutta questa cosa fa parte del gioco del riassetto globale e quindi è prevista da tutti, era prevista da tutti. Nella versione di Putin quindi possiamo oggettivamente vedere, uno statista assai informato storicamente, la detta la sua, sfiderei non per fare il putiniano che a me non mi interessa, però sfiderei qualsiasi leader occidentale da dai Macron ai Biden a compagnia bella a tenere una intervista così lunga e con delle citazioni storiche, un riassù per carità, poi in teoria nei parlamenti ci dovrebbe sta gente assai ben istruita, capace di fare quello che fa Putin, comunque Putin l'ha fatto, ha detto la sua storicamente partendo non dalla fine della guerra fredda o dalla fine della seconda guerra mondiale, ma da molto più indietro, quindi secoli indietro. Quindi assai informato storicamente nel presente, appartenè apparentemente padrone delle decisioni del suo Stato, ovviamente anche lui ha il suo Stato profondo. Pur in maniera molto diplomatica scopre tutte le contraddizioni dell'Occidente e dell'Elite che sono dietro il potere visibile dell'Occidente, rivelandone grosse contraddizioni e limiti strategici apparentemente inspiegabili. Come dico sempre, credo che a livello di Elite globale i veri poteri forti, tutto ciò sia ben previsto e assorbito, ecco perché poi alla fine anche quello di Putin è stata una narrazione per quanto intelligentissima, colta e corretta, fa parte dello spettacolo integrato di fatto. Penso che non accadrà nulla di irreparabile anche perché, come continuo a ripetere da anni, ormai sono le corporazioni della tecnica insieme agli Stati profondi a far sì che prima o poi tutto il mondo si unisca in una tecnodistopia di controllo globale antidemocratica e antiumana. Qui è la questione, secondo me. E qui c'è il link appunto alla traduzione di tutta l'intervista da parte dell'indipendente. Sempre il 10 febbraio. Qui invece pubblico un video di un canale molto sinistrozo, comunista, che autolina in tv, che però è un canale smart, simpatico, è dialogante, per esempio anche ha intervistato la Pabble di cui sopra, hanno fatto una bella intervista, una bella discussione. Quindi io per carità non so comunista per niente, la loro impostazione la rigetto perché secondo me è fallace, però in ogni caso serve, come adesso vi spiegherò, può servire, questi personaggi e questi siti possono servire per alcune cose. Allora, non sono certo comunista, come non sono fascista e neanche uno storico, e su questa cosa in particolare proprio alzo le mani. Come sapete penso che le ideologie siano state superate dai diritti umani incarnati anche nella nostra Costituzione. Quando però la riscrittura della storia, e di cosa parliamo? Parliamo della questione delle foibe, arriva a certi livelli, quindi la riscrittura occorre utile anche ascoltare chi questa riscrittura denuncia con dovizia di particolari, perché poi ne dicono tante di cose come riferimenti, studi, eccetera, eccetera. Indipendentemente dalla sua ideologia, appunto, che a volte può risultare utile a mantenere una certa memoria storica e denunciare le nuove falsità. Quindi sicuramente chi viene da sinistra comunque ha una visione che magari è più corretta della destra su alcune cose che è ovviamente tatticamente, strategicamente più informata della destra su certe cose che gli fanno comodo e viceversa. Alcune aree della destra poi sono più tatticamente informata e corretta per cose quanto riguarda la sinistra. Questa volta quindi tocca ad un canale chiaramente di sinistra, anche dialogante con tutti, e qui c'è il link del video, se vi interessa questa questione delle foibe andate a vedere, magari fatemi anche sapere che ne pensate. 12 febbraio, allora sapete delle dichiarazioni di Trump sulla Nato, il presunto schiaffo di Trump alla Nato è l'ennesima dimostrazione di quanto, dico da anni, la geopolitica non si svolge nel risico globale con i confini e le bandierine, ma in ambiti elitari, profondi, sovranazionali, extrademocratici e non trasparenti. Il rifiuto della politica, del ragionamento politico, dell'organizzazione politica, delle istituzioni della politica, ci lascia sguarniti proprio nei confronti di quella politica che si sta comunque occupando di ognuno di noi, soprattutto adesso con la digitalizzazione, per mezzo di una tecnologia sempre più invasiva e costringente. Tanti auguri a tutti, ok? Siamo all'ultimo intervento del 16 febbraio, quindi di ieri, e no, e rimaniamo sempre su questa questione della Nato, però parlando anche di Corsetto, quindi dai pruriti di Corsetto alle alzate di sopracciglia della Nato, perché la Nato risponde a Trump dicendo che si armerà, quindi nuovi rulli di armamenti e di guerra, molti analisti ne deducono la possibilità di una nuova guerra che investirebbe l'Europa, ovviamente contro la Russia, senza negare le evidenze. Credo comunque che siano tutte strategie nel grande gioco di riassetto globale, io questo penso e ripeto, deciso non dalle nazioni, ma dalle oligarchie globali che controllano gli stati profondi, che controllano le nazioni. Come dico sempre, non penso che accadrà nulla di irreparabile se non l'instaurazione di una tecnodistopia di controllo globale, no? Non è cosa da poco purtroppo, in ogni caso sarà sempre troppo tardi quando ci accorgeremo di non aver difeso, come avremmo dovuto, lo Stato di diritto e aggiungerei qui grazie all'antipolitica su cui ho fatto due articoli che presto, recentissimi, che presto metterò anche in video. Bene, questo era tutto, erano tutti gli interventi che ancora non avevo messo in video. Vi ringrazio, dividete, mettete i like, diffondete, andate anche sul blog e diffondete il blog perché tutto nasce dal blog, trovate tutto nelle informazioni del video e iscrivetevi al canale, fate iscrivetevi altre persone e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao e buona giornata a tutti.